Sono trascorsi pochi giorni dalla scomparsa di Piero Angela, ed ora l'attenzione è tutta sulla sua famiglia, soprattutto su suo figlio Alberto. Ma non tutti sanno che il noto divulgatore scientifico ha anche un'altra figlia. La conosciamo tutti, scopriamo di Piero Angela, padre di Superquark e della conoscenza. Ci ha lasciato nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Nel giorno del suo addio erano presenti colleghi, amici e la sua famiglia. Tra i volti in prima fila, c'era una donna che ha attirato l'attenzione. Si tratta della sua primogenita, molto conosciuta ma è sempre stata molto riservata e lontana dai riflettori. Nel giorno del suo ultimo saluto a suo padre, lei si è mostrata al fianco di suo fratello minore Alberto Angela. Si chiama Cristina Angela e dalle foto che circolano in rete dai diversi avvistamenti, possiamo notare la somiglianza clamorosa con sua madre, scopriamo di più sulla sua vita privata e carriè. Chi è Cristina Angela? Tutto sulla figlia di Alberto Angela. Cristina Angela è la primogenita del noto divulgatore scientifico Piero Angela e di Margherita Pastore. Lei è sempre stata una persona molto riservata e lontana dai riflettori. La donna è nata nel 1958 mentre il fratello più tardi, precisamente l'8 aprile 1962, in passato Piero Angelo, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere, ha raccontato di aver registrato tutto il momento della nascita di tutti e due i figli. Entrambi quando sono cresciuti sono diventati noti al pubblico italiano per le loro importanti conoscenze scientifiche. Ma sapete che lavoro fa Cristina Angela? E, più conosciuta di suo fratello, scopriamo di più. La carriera di Cristina Angela, la figlia di Piero Angela. Tutta la famiglia Angela è composta di persone di grande cultura, infatti, anche Cristina è appassionata di storia proprio come suo padre. Lei è una famosa ricercatrice, infatti, a differenza di suo fratello Alberto, noto conduttore e divulgatore scientifico, lei è conosciutissima in campo scientifico. Della sua vita privata sappiamo davvero poco, a parte che ha 64 anni e che è nata nel 1958. Una donna di scienza che ha collaborato con suo padre Piero per numerose pubblicazioni scientifiche. Cristina, ha sempre cercato di mantenere la sua vita lontana dai riflettori, infatti, si è sempre concentrata sul suo lavoro. Nel corso della sua carriera ha svolto l'analisi di più di 400 articoli scientifici. Dopo la scomparsa di suo padre, si è parlato della sua possibile conduzione a superquark, quindi, molto presto potrebbe prendere il posto di suo padre, nella nota trasmissione. Come abbiamo detto sin dall'inizio, è una donna super riservata e quindi non sappiamo se sia sposata o se abbia figli.